Ciao, io sono Robin Good e questo è ConvertireVideo.it Se sei alle prime armi con cercare di capire come convertire un file video un file che ti hanno mandato e che non riesci magari neanche a leggere oppure che arriva dalla tua telecamera e che vorresti editare e montare o che un tuo amico ha scaricato da internet ma che non riesci a vedere sono qui per darti una mano e per darti in questo video alcune indicazioni base su come muoverti la prima cosa che devi fare quando hai un file video è di spezionare e di accertarti sempre del formato video con il quale hai a che fare così come ci sono dei file di testo in formato Word piuttosto che in formato Excel o PowerPoint così per i video ci sono vari formati quindi sarebbe utile ispezionare il tuo file video usando magari il comando Properties selezionando il tuo video sotto Windows e facendo clic con il tasto a destra e scegliendo Properties puoi riuscire a capire in che formato è stato registrato il tuo video non sempre questo è possibile ma puoi provare a farlo oppure se sei su Mac puoi selezionare il tuo video e premere il tasto Command-I per sapere tutte le informazioni su quel file se nessuna di queste due soluzioni funziona puoi usare uno dei programmi gratuiti che ho messo a tua disposizione nell'area Download qui del sito Convertire Video per Windows c'è Video Inspector oppure su Mac puoi usare Media Info per sapere tutte le informazioni riguardo a quel file che hai sotto mano la seconda cosa che probabilmente hai già provato a fare è vedere se riesci a leggere questo video cioè si vede? si sente ma non si vede? si vede ma non si sente? probabilmente quello che ti serve per poter controllare in maniera sicura questa cosa è di avere un lettore video universale ti consiglio di scaricarti subito quindi VLC che è disponibile sia per Windows che per Mac e Linux e lo trovi nella sezione Download qui di Convertire Video.it il problema di solito è che manca un codec senza fartela troppo lunga dal punto di vista tecnico il codec è un file che serve per poter leggere qualsiasi tipo di video e di questi codec oramai ce ne sono moltissimi quindi quello che ti consiglio di fare per evitare qualsiasi problema a monte è se sei su un PC scaricati dalla mia sezione Download il Keylight Mega Pack è assolutamente gratuito e ti installa tutti i codec che ti servono se sei su un Mac invece scaricati sempre gratuitamente Perian e se proprio vuoi fare il sofisticato vatti a vedere sul sito dell'Apple anche gli eventuali altri QuickTime Components che ci sono a tua disposizione a questo punto sempre nella sezione Download puoi sceglierti il convertitore video più adatto io ti consiglio in particolare Format Factory che è piuttosto semplice da usare ti consente di fare anche dei lavori in automatico e funziona per i PC con Windows oppure ti consiglio di utilizzare Handbrake Handbrake è più sofisticato ma c'è sia per PC che per Mac che ti consente di controllare un sacco di dettagli tecnici se invece del lato tecnico proprio non ne vuoi sapere vuoi la cosa più semplice possibile e vuoi fare due click e convertire il video e sperare che tutto funzioni bene puoi scaricarti immediatamente Miro Video Converter anche lui disponibile sia per PC che per Mac mi raccomando quando devi fare delle conversioni video fai sempre un test prima con un piccolo file non partire con un file gigantesco che dura un'ora o due e provi a convertirlo perché magari ci vogliono tante ore e poi ti accorgi che non è venuto fuori niente di quello che ti aspettavi quindi fai sempre quando puoi un test con un file analogo con lo stesso tipo di contenuto ma molto molto breve e vedi che risultato viene fuori una volta che hai trovato le impostazioni giuste magari prendi questo file e provalo anche su un altro computer mettilo su una chiavetta USB mandalo via Skype usa un servizio di trasferimento file come WeTransfer o FileDropper e metti questo file che hai convertito anche su un'altra macchina o dallo ad un tuo amico e chiedigli di vedere se riesci a vedere questo video ricordati infatti che non tutti hanno un PC o un Mac come hai tu magari loro hanno una macchina diversa con un sistema operativo diverso altri codec installati e non installati quindi è sempre bene verificare sulla macchina di qualcun altro se poi quello che vedi tu lo possono vedere anche gli altri una volta indovinate tutte le combinazioni e i fattori giusti ti consiglio di prenderne una nota accurata di segnarli bene magari di metterli in un documento elettronico e di fare anche qualche screenshot cioè qualche fotografia dello schermo delle impostazioni che hai usato quando hai convertito il tuo file video perché appena finisci è tutto facile sembra che hai scoperto l'uovo di colombo e che adesso sarà tutto in discesa ma passate un paio di settimane probabilmente non ti ricorderai più nulla quindi se metti tutti questi dati anche su un documento online io uso GDoc ma tu non potresti usare un altro di modo che anche i tuoi colleghi e amici quando gli serve possano attingere a queste informazioni e mettendole su un documento come GDoc online che è gratuito puoi accedere a queste informazioni ogni volta che ti servono anche se non hai il tuo computer anche se sei fuori di casa o se stai viaggiando questi sono tutti i miei consigli di base se stai per convertire o provare a convertire un file video da un formato ad un altro io sono Robin Good mi puoi contattare anche attraverso Facebook e Twitter all'indirizzo qui sotto ciao buona conversione